Ah, è lei che conduce, molto bene. Lei poi dovrà scusarmi con tutti che io ho un volo e alle 8.15 purtroppo devo andare. No, però perché non è stato gentile a farse da prima. Eccola, come stai? Bene, grazie. Eccoci qua. Grazie per la presenza. Figurati. Noi in realtà abbiamo fatto il mezzo miracolo che ci siamo iniziati a prima. Oh, bene. Cioè siamo praticamente pronti. Vi offriamo qualcosa di televolante. Ok. Mentre noi possiamo seguire le sue lezioni. Ma come volete fare? Voi? Oppure qua direttamente? Voi va dentro. Ragazzi, quando ci va a stare qui? Sì. Oggi abbiamo fatto questa conferenza nazionale per la strada in vigore della Convenzione di Stampe. Sì, no? Sì. Sono venute un sacco di delegazioni, 46 delegazioni. Buongiorno. Sì. 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 Grazie.